Eravamo Comincini, Age, Monicelli e io. E allora dice, come si fa le storie a narrarle in una persona, due persone, tre persone? E poi chi decide questo va bene o questo non va bene? Questa è la domanda più giusta. Chi è che decide? Decide la buona coscienza delle due persone o tre persone o quattro persone. Facciamo un esempio. C'è un'idea, un'altra ha un'idea e un'altra ha un'altra idea, tre idee. Cosa avviene fra queste tre persone? Che ognuno dovrebbe dire qual è l'idea migliore. Anche se non è la mia, la tua può essere migliore. Non sempre avveniva così. Avvenivano delle liti, molto furiose a volte, perché ognuno difendeva la propria idea e difendendola, questa idea che era così e l'altra anche diventava così. Dopodiché il buonsenso, la ragione, la ragione faceva dire è meglio così o è meglio così. Dopo un giorno, due giorni, anche tre giorni di liti e lì appunto, come dire, l'equilibrio, il pensiero faceva dire facciamo così a tutti e tre o a tutti e quattro. Quando si è d'accordo su un significato centrale, su una filosofia del racconto, sulla sostanza, che io adesso potrei dire quali sono gli elementi che ci hanno trovato d'accordo in partenza, un pensiero politico, di natura sociale ma politico. osservare che cos'è il patimento, la sofferenza degli umili, di quelli che stanno sotto. La domanda quanti poveri occorrono per fare un ricco? Domanda alla quale non si può dare, non si deve dare, non si dà una risposta, guarda se stanno fermi.